A me sembra che una giornata come questa sia importante per portare anche a livello di un pubblico molto più ampio la statistica. La statistica grazie anche all'Information Technology sta assumendo dimensioni, precisioni molto importanti. Credo che quando si parla di statistica mai come in questi momenti sia necessario avere una statistica indipendente e questo è fondamentale, lo sottolineo fondamentale, una statistica che sta progredendo moltissimo è di estrema utilità sia al mondo della politica, dell'economia, dell'impresa, vorrei dire a molti settori della nostra vita, a condizione che poi sia una statistica che oltre a una statistica indipendente sia anche una statistica oserei dire perfetta, anche se non lo è per natura, ma che poi abbia in chi la segue la capacità di essere interpretata, perché la statistica non è una scienza esatta, ma va interpretata. Credo che siano elementi importanti ed è soprattutto fondamentale, come dicevo all'inizio, che questa scienza assuma oggi un ruolo non solo mondiale, ma anche vada al di fuori di quella che è la ristretta cerca degli addetti ai lavori.